Siamo alle porte di Fruito Logistica 2014, come sempre abbiamo delle aspettative molto elevate, si tratta di un'occasione strategica nel nostro settore ormai imprescindibile ed è sicuramente non solo un momento di incontro con i nostri clienti e quindi con i clienti storici per fare il punto della situazione, ma anche la possibilità di metterci in vetrina, far vedere quello che sappiamo fare e conquistare nuovi clienti e nuovi mercati. In particolare è un momento importante per la stagione delle mele, stiamo chiudendo ora la prima parte che abbiamo cominciato in settembre-ottobre con le diverse varietà e possiamo iniziare a fare un primo punto della situazione. Da oggi in poi, dal mese di febbraio, entriamo nel vero cuore della campagna per il nostro prodotto, per la mela, che vede la maggior parte delle vendite fra il mese di febbraio e il mese di maggio, anche se poi con diverse varietà riusciamo ad entrare in estate ed addirittura con la nostra Golden Delicious arriveremo fino a fine agosto o addirittura entraremo nel mese di settembre. Per quanto riguarda le vendite, fino ad oggi siamo soddisfatti, il livello dei prezzi è buono e l'andamento del nostro piano di decumulo, del nostro piano di vendita è in linea con le aspettative e con quello che abbiamo previsto ad ottobre. In questo momento andremo a valutare con tutti i nostri clienti come proseguire per il resto della stagione con tutte le diverse varietà. In particolare, come dicevo, continueremo a vendere la nostra Golden Delicious di montagna fino al mese di settembre, continueremo fino ad estate inoltrata con la Stark Delicious e stiamo concludendo la stagione della gala, all'incirca verso metà marzo o fine di marzo, a seconda delle diverse referenze concluderemo la stagione. Da oggi in poi abbiamo disponibili anche la varietà Club Kanzi, che ci sta dando ottimi risultati e progressivamente nelle prossime settimane anche la varietà Pinova, che è molto tipica della Val Venosta, è anche questa una varietà IGP e ci sta dando grandi soddisfazioni. In generale abbiamo ottime aspettative o molto buone aspettative per il proseguo della stagione. Le giocenze, le ultime giocenze disponibili per il mese di gennaio ci parlano di una Golden Delicious addirittura che ha meno prodotto in stock sia del 2012 che del 2011, quindi prevediamo un mercato equilibrato. Nonostante le piogge primaverili la qualità è buona o molto buona e quindi non prevediamo nessun problema di conservazione, pensiamo di poter andare avanti con la con la nostra classica qualità anche nei prossimi mesi. Vi aspettiamo tutti a Fruittologistica e ci vediamo a Berlino nella Halle 4.2 nello stand B11.